Buonasera al professor Nicola Bellini che ringraziamo per aver accettato l'invito di Crosting Club a rispondere ad alcune delle nostre domande sul tema di turismo e sostenibilità nell'ambito di questo ciclo di interviste che abbiamo dedicato al tema della sostenibilità e della sua applicazione. Io vorrei cominciare questa conversazione da una prima domanda più generica chiedendole quale ruolo gioca il settore del turismo in un'ottica di sviluppo sostenibile. Il turismo gioca in un'ottica di sviluppo sostenibile perché gioca nell'ottica dello sviluppo. Il turismo ormai è una componente importante dello sviluppo economico di molti paesi, anche di paesi avanzati, di paesi industrializzati come l'Italia. Questo si cita questo dato che se volete è appostimativo ma che comunque dà il senso di cosa parliamo, cioè di un 13-14% del prodotto interno lordo di un paese come l'Italia che dipende direttamente o indirettamente dal turismo. Ecco, questa percentuale la potete applicare anche al tema della sostenibilità. Uno su cinque la sostenibilità dello sviluppo in questo paese dipende dalla sostenibilità del turismo e la realtà è che noi abbiamo, con cui noi ci siamo confrontati almeno sino al patidico 2020, sino alla pandemia, è di un turismo che aveva dei grossi problemi di sostenibilità, che era in una deriva piuttosto pericolosa rispetto al garantire una compatibilità con l'ambiente vera e una sostenibilità dal punto di vista di tutte le dimensioni in cui sostenibilità, quindi nel rispetto per esempio alla qualità dello sviluppo di determinate comunità locali, rispetto alla qualità del lavoro, rispetto anche alla affidabilità di una crescita economica che come abbiamo imparato in questi mesi è molto vulnerabile. Il turismo è cresciuto molto però ha anche dimostrato di essere un'attività più vulnerabile, se vogliamo, delle attività economiche tradizionali. Ecco, lei citava appunto la pandemia da Covid-19, questo imprevisto del 2020, e ecco, rispetto appunto, lei diceva, il turismo in Italia era in una deriva pericolosa per quanto riguarda la questione della sostenibilità ambientale, ma non solo. La pandemia che cosa ha significato rispetto a questa tendenza? La pandemia innanzitutto è imprevista ma non imprevedibile, quindi diciamola tutta. E soprattutto per quello che riguarda il turismo, perché il turismo vive della mobilità e ha vissuto e cresciuto sulla mobilità e sulla mobilità in cala globale. Il turismo, la straordinaria cammino di crescita che il turismo ha avuto negli ultimi decenni, è fortemente legato allo sviluppo della globalizzazione, è parte integrante della globalizzazione. E quindi il turismo è, lo dico con un qualche imbarazzo, perché per chi si occupa del turismo mi guarda malissimo. Quando dico così, il turismo insieme a vittime è complice di quello che è successo, perché potenziali pandemie del passato non sono diventate pandemie, proprio perché il livello di mobilità, in particolare a livello di mobilità che è stato originato dalla crescita del turismo, non era paragonabile. una simile epidemia come in questi tempi quella della SARS in Cina non divenne pandemia, anche perché la quantità di viaggi tra esempio la Cina e il resto del mondo era di gran lunga inferiore a quella che avevamo nel 2019 e nel 2020. Detto questo, il turismo sicuramente vive questo momento come un momento di stop, anche rispetto ad altri settori produttivi, non parliamo di quelli che addirittura hanno avuto un'opportunità nella pandemia, ma rispetto anche ad altri settori produttivi che sono in crisi, il turismo si è letteralmente fermato ed è qualcosa assolutamente senza precedenti ed è uno stop che ha provocato tutta una serie di riflessioni che guardano alla ripartenza non solo come a una fine dell'incubro, come torniamo al back to normal, al ritornare alla normalità, ma ad andare verso una nuova normalità, che è un'espressione abbastanza ambigua, anzi interessante proprio perché è ambigua, perché non ci dice cosa sarà il nuovo di questa normalità, ma il turismo si interroga sicuramente su quali saranno gli equilibri verso i quali si potrà riposizionare, rispetto a molte dimensioni, cominciare da quella della vulnerabilità, non è sicuramente pensabile che il 20%, il 15%, in alcuni paesi il 30%, il 40% dell'economia possa da un giorno all'altro fermarsi, questo è inaccettabile, ma anche la compatibilità più ampia rispetto alla qualità ambientale, sociale, vogliamo anche dire politica nel senso più ampio del termine dei nostri cammini di sviluppo. Non è detto che questo sia un periodo che ci porti necessariamente in questa direzione, oggi la situazione ha un tale livello di dramma, il turismo da grande opportunità è diventato grande problema sociale, nelle autostrade sono bloccate dalle persone di turismo, il dramma della povertà, le file davanti alle messe della carità sono fatte di persone che lavoravano nel turismo, diciamolo, il turismo è diventato da grande opportunità, grande problema sociale in questo momento. Tale è la dimensione del dramma che ovviamente c'è una grande spinta a ripartire purché si riparta e qui abbiamo forse la trappola, se mi permette l'espressione, la trappola più grande e più pericolosa, insomma che questa urgenza della ripartenza ci faccia dimenticare che ciò che avevamo prima, cioè la normalità a cui vorremmo tornare era una normalità appunto non sostenibile, non destinata a durare nel tempo, che se il turismo deve ripartire sarebbe bene, sarebbe veramente auspicabile che ripartiste su basi diverse. Ecco, e alla luce di questo auspicio, per una struttura ricettiva, allinearsi ai criteri di sostenibilità potrebbe essere una scelta che paga anche in termini di competitività, anche alla luce comunque di una sensibilità che si è mossa e che si è modificata rispetto ai temi della sostenibilità ambientale e non solo. E quindi, detto in poche parole, quali sono i benefici economici della sostenibilità? Ma io sono assolutamente convinto che scommettere sulla sostenibilità oggi sia vincente anche dal punto di vista della competitività. Il fatto che ne sia convinto un professore fa sì che bisogna essere molto prudenti, gli operatori forse saggiamente non ci credono o ci credono con prudenza. Perché dico questo? Perché, diciamocelo francamente, investire sulla sostenibilità vuol dire oggi mettersi, sopportare dei costi in una situazione in cui la struttura dei conti è drammatica, in cui non ci sono entrate, in cui c'è grande incertezza, in cui alcune delle regole del gioco sono saltate. Pensate molto banalmente al fatto di essersi abituati ad avere dei vincoli, a disdire una camera d'albergo. Oggi nessuno accetta di prenotare una camera d'albergo se non ha la possibilità di disdirla anche il giorno prima. Molto bello dal punto di vista del turista, molto rassicurante, ma potete immaginare cosa questo significa, per esempio, per l'albergatore. Allora, in questo contesto di regole del gioco che mutano la sostenibilità è un costo addizionale che l'impresa deve sopportare. Ed è una scommessa. La scommessa si fonda sul fatto che quelle che lei citava come nuove sensibilità siano anche proprio delle scelte di mercato molto forti. E che quindi io come turista nel momento in cui vado a prenotare un albergo incomincio ad essere molto più attento di quanto non fossi prima, anzi prima probabilmente ero totalmente disattento a alcune condizioni che mi vengono garantite. Perché? Perché ne va della qualità del mio soggiorno, perché ne va del mio sentirmi bene, perché ne va anche della mia salute, anche dell'igiene, anche del modo in cui continuiamo a comportarci in questa fase, ricordiamoci, in cui la pandemia non è finita. Noi siamo ancora in una fase in cui nonostante i vaccini o quello che abbiamo dei vaccini dobbiamo stare attenti, mascherine, distanziamento, igiene e quant'altro. Quindi tutto questo va nella direzione di un mercato in cui la sensibilità, l'attenzione a molte, a questo tipo di aspetti è maggiore. E c'è sicuramente una volontà da parte del mercato, da parte del consumatore, del turista di premiare questo, quindi di premiare in termini di scelta. Vediamo se questo si realizza. C'è come dire, in questo momento c'è una grossa convergenza, nel senso che sia operatori che esperti sembrano convergere rispetto a questa idea che il nuovo mercato turistico sarà nuovo da questo punto di vista, con una maggiore attenzione alla sostenibilità, maggiore attenzione all'igiene, alla pulizia, insomma a tutti questi elementi. Però ci sono anche dei segnali contraddittori. Viene cito solamente uno, c'è un fenomeno che nel marketing si chiama revenge spending, spendere per vendetta. E quando qualcuno, insomma per qualsiasi motivo personale, di problemi economici, per un lungo tempo non riesce a comprare determinate cose, improvvisamente prende un aumento di stipendio, prende un premio, la produttività, si trova più soldi in tasca e la prima cosa che va è che va e spende. Questo è un meccanismo psicologico che è moltiplicato per grandi numeri come quelli di cui stiamo parlando. Si può fare immaginare, e l'abbiamo visto in parte in alcuni paesi, per esempio nelle prime riaperture al turismo interno ovviamente della Cina, c'è questa voglia di rimettersi a viaggiare, che esplode come un vaso di Pandora che è stato chiuso troppo a lungo e che improvvisamente riesplode. E questo in qualche maniera spazza via anche quelle attenzioni che noi immaginiamo il nuovo turista sostenibile, responsabile, insomma bello dovrebbe seguire. Quindi qualche dubbio, qualche dubbio è lecito, è assolutamente lecito, lecito vero. È una scommessa, diciamo, nei confronti del turismo sostenibile che gli operatori devono assumere guardando un pochino più sul lungo termine. Poi ci sono alcuni aspetti della sostenibilità che forse hanno un più immediato riscontro dal punto di vista della competitività, insomma dei conti dell'azienda, dei conti dell'impresa. Mi riferisco in particolare a una dimensione di cui si parla forse troppo poco nel turismo, che è quella dell'economia circolare. Il turismo è molto sprecone, se mi passa il termine. Il turismo spreca molto, ha sempre sprecato molto. Ha sprecato molto nei ristoranti, negli alberghi, nei trasporti. E lì c'è veramente tanto da fare e l'economia circolare a questa attività, se vogliamo, anche più terra a terra, non solo di restituire una qualità del servizio migliore, sostenibile, eccetera, eccetera, ma anche di permettere una gestione più attenta delle risorse, delle risorse delle imprese. Quindi il tema della circolarità forse andrebbe nella lista delle priorità, adesso forse un pochino sotto, riportato un pochino più in alto, perché è lì dove si concilia l'attenzione e la sostenibilità e l'attenzione ai conti dell'impresa. Chiaro. Dunque, lei prima parlava appunto di costi per investire in sostenibilità. Quali strumenti esistono per stimolare questo tipo di investimenti? Ma guardi, io penso che questo momento sia il momento in cui dobbiamo provare a immaginare veramente il turismo come una delle altre, delle tante industrie di cui è fatto l'economia di un paese. Il turismo per tanti motivi, in particolare in paesi come l'Italia, quindi non solo l'Italia, ma sicuramente l'Italia è un bel esempio, è considerato un'attività economica sui generis, un po' come se fosse meno legata alla logica di impresa e più legata a delle logiche, diremmo, di vendita. Insomma, io abito a Firenze e non devo fare nulla perché i turisti vengano a Firenze. Devo solo, quando arrivano, spremerli il più possibile. Ecco, questa logica che va molto, va appunto nella dimensione della rendita e non della ricerca imprenditoriale del profitto e quindi di tutto ciò che porta il profitto a cominciare ad esempio dall'innovazione, dall'innovazione tecnologica, è stata una logica, una logica dominante, ma anche una logica che ha legittimato il trattamento del turismo come qualcosa a parte dello sviluppo economico del paese. Si contava il 15%, il 14% del PIL e lo dicevamo, lo ripetevamo quando ci faceva comodo. Però pensi solamente al fatto che il turismo non era una materia che stava ad esempio al Ministero dello Sviluppo Economico, ma stava al Ministero della Cultura, anzi al Ministero dei beni culturali e del turismo, come una specie di appendice rispetto a qualcos'altro. Ecco, se incominciamo, e questo veramente ne abbiamo un drammatico bisogno, anche per quello che è successo in questi mesi, a guardare al turismo come a una industry, come a un settore economico, con tutte le problematiche di un settore economico, incominciamo, come dire, anche a omologarlo dal punto di vista delle politiche e anche al punto di vista delle politiche per la sostenibilità. Quindi penso che il grosso passo avanti in questo momento sia di smettere di pensare che ci sono, ad esempio, dei problemi riguardo ai temi della sostenibilità, degli incentivi, piuttosto che delle certificazioni che riguardano questa specie di ghetto ideale che è il turismo, ma che il turismo è parte di tutto ciò che sulla sostenibilità si può fare a livello di economia nazionale. Quindi se l'Unione Europea con forza ci dice siate green, il turismo è parte di questo green, di cui sono l'industria farmaceutica, chimica, metallomeccanica, l'agricoltura e anche il turismo. Quindi direi che gli strumenti diventano a questo punto, devono essere pensati, integrati in quelli che sono gli strumenti che noi offriamo a qualsiasi altra impresa dell'economia nazionale. Chiarissimo, chiarissimo. Lei prima parlava di criteri e categorie. La mia ultima domanda riguarda appunto in questo periodo quando il tema della sostenibilità è diventato un tema mainstream e un acronimo che ormai tutti abbiamo imparato a nominare è quello di ESG che fa riferimento a Environment, Society and Governance per valutare la sostenibilità di un'impresa. Parlando di turismo, ha senso mutuare questi criteri ESG? Come si misura l'impatto su natura, società e economia? Nel senso che esistono già degli strumenti o può aver senso elaborare dei criteri simili ESG per il turismo? Io penso che ci sia una ricerca sicuramente molto importante di strumenti di valutazione di misura. L'Unione Europea, la Commissione in particolare, ha promosso e anche di recente il Parlamento Europeo in un documento molto importante sul turismo, nella sostenibilità del Covid, ha riproposto tutta una serie di criteri, di griglie, di valutazione per la sostenibilità nel turismo. Io ho anche convinto che su questo ci sia ancora molto da fare perché il turismo è una realtà che spesso, le cui dimensioni spesso ci sfuggono anche per motivi tecnici. Noi non sappiamo quanti turisti abbiamo, anche in una regione per esempio come la nostra, come la Toscana, il dato ufficiale del turismo è straordinariamente lontano dal dato reale, tanto è vero che l'IRPET che ha il compito di valutare gli settori economici in funzione dell'economia, in funzione della crescita, utilizza una propria stima che ha, ahimè, poco a che fare con le statistiche ufficiali sul turismo. Quindi il turismo è già difficile, come dire, ancora prima di misurare gli effetti, misurare quanto turismo c'è. Abbiamo alcuni aspetti del turismo su quali possiamo sicuramente anche dire qualcosa di più, per esempio sul fenomeno di congestione, di presenza eccessiva di turismo, quello che oggi si viene chiamato, anzi oggi, ieri, sino a ieri veniva chiamato overtourism. Adesso qualcuno dice che non c'è più, ma è facile che ci rischierà domani. E quindi abbiamo dei tentativi di misurazione che derivano tra l'altro proprio dagli studi ambientali, sulla carrying capacity di un territorio, sulla capacità di un territorio di portare, di sopportare un peso di presenza umana su una determinata superficie, anche se sappiamo che queste sono misurazioni che si prestano a, come dire, a manipolazioni molto facili in funzione di ciò che si vuole dimostrare. Quindi la misurazione è ancora, per molti aspetti, un terreno di esplorazione, di ricerca, piuttosto che un manuale da aprire e che ci dà esattamente le risposte. Però diventa urgente, tanto più vogliamo avanzare in questa direzione, tanto più la nostra capacità di capire di che cosa stiamo parlando, di capire le dimensioni di questi fenomeni, è necessario. E anche da questo punto di vista si pone per il turismo un problema che è proprio del turismo e che quindi va sottolineato proprio di conoscenza del fenomeno. Noi abbiamo una qualità veramente molto mediocre dei dati che riguardano chi si muove, come si muove, dove si muove. E paradossalmente proprio in un'epoca in cui grazie alle nuove tecnologie, ai big data, sarebbe possibile avere una percezione ben più sofisticata di questo che è stato, e io credo continuerà ad essere uno dei grandi fenomeni caratterizzanti delle società contemporanee, con la ricerca della vacanza, la ricerca del diverso, il viaggio, il muoversi e via dicendo. Questa potrebbe essere anche in funzione della sostenibilità una grande opportunità per fare un salto di qualità. Ci sono paesi che stanno lavorando molto, anche in Europa in questa direzione, per esempio il Portogallo, sia dell'elaborare che poi del comunicare i dati, del rendere, di socializzare la conoscenza, del distribuirla. E noi, non per la solita lamentela sul nostro paese, ma oggettivamente siamo molto indietro da questo punto di vista. Grazie.